La scala Richter La scala Richter fece inclinare un'intera piattaforma continentale. In genere scosse simili provocano inondazioni. Con questo colosso accadde il contrario. E come in un immenso respiro, l'oceano si ritirò. Lo strato più segreto del nostro mondo rimase scoperto sul fondo del mare. Navi naufragate, facciate di case, candelabri di sale da ballo, tazze del gabinetto, forzieri di pirati, schermi televisivi, furgoni postali, fusoliere di aerei, cannoni, busti di marmo, kalashnikov. Il carapace di metallo di un pullman per turisti, acqua, santiere, lavastoviglie, computer, spade incrostate di cirripedi, monete diventate pietra. Lo sguardo strabiliato spaziava tra queste cose. La popolazione che dalle case in crollo era fuggita verso le colline costiere si precipitò giù. Dove erano stati urto terrestre e schianto terrificante, adesso era nudo silenzio. La saliva del mare scintillava su questi oggetti. È provato che il tempo non può né mai ha potuto esistere qua giù dove la materialità del passato e del presente per come sono non ha ordine cronologico. Tutto è uno, tutto è nulla. Oppure tutto si possiede all'istante. Nella fuga la gente prendeva, prendeva, prendeva. Questo è stato un tempo in ogni epoca, solo in alcune, di valore. Quello potrebbe essere utile. Cos'era questo? Beh, qualcuno lo saprà. Quello doveva appartenere a un ricco. Adesso è mio. Se non lo arraffi tu lo farà qualcun altro. I piedi scivolavano e strisciavano sulle alghe e sprofondavano nella sabbia fangosa. Piante di mare boccheggianti li guardavano stupite. Nessuno notò che non c'erano pesci. Gli abitanti vivi di questa terra svelata erano stati spazzati via insieme all'acqua. Niente a che vedere con la possibilità di saccheggiare i negozi una consuetudine per la gente negli anni delle sommosse. La gioia orgiastica diede a uomini, donne e bambini la forza di tirar fuori dalla melma e dalla sabbia quello che non sapevano di volere. Ne accelerò lo sparpagliarsi a passi incerti. E questo era più che approfittare del caso. Era derubare il potere della natura davanti al quale erano fuggiti inermi. La gente prendeva, prendeva. Nell'arraffare potevano scordarsi delle case in sfacelo e della perdita dei loro effimeri averi. Avevano lacerato il silenzio gridandosi l'un l'altro. E sotto queste urla, simili all'estrida dei gabbiani assenti, non colsero l'avvicinarsi di un rumore lontano che si alzava come un grande vento. E poi il mare ritornò, sommergendoli per arricchire il suo tesoro. Questo è quel che si sa. Dai servizi televisivi che davvero non avevano niente da mostrare, eccetto la pelle di peltro degli abissi. Dalle interviste radiofoniche con quei pochi infermi, paurosi o prudenti, che non erano scesi dalle colline. E dai resoconti giornalistici sui corpi che per qualche ragione il mare aveva rifiutato, ributtato a riva, da qualche parte sulla costa. Ma chi scrive, sa qualcosa che nessun altro sa. L'inversione dirotta nell'immaginazione. Ecco, c'è un uomo che ha desiderato un certo oggetto, qualunque esso sia, per tutta la vita. Ha un sacco di cose. Su alcune gli cade spesso l'occhio per cui devono piacergli molto. Alcune non le nota neppure, di proposito. Cose che forse non avrebbe dovuto comprare ma di cui non sa liberarsi. C'è una lampada Art Nouveau vicino alla quale legge. E sopra la testata del letto una stampa giapponese, Hokusai. La grande onda. In realtà non colleziona roba giapponese. Forse però se si fosse trovata sulla parete di fronte avrebbe fatto più parte dell'arredamento. E' rimasta fuori vista dietro alle sue spalle per anni. Tutte queste cose. Ma non quella. E' in pensione, divorziato da tempo. Ha scelto una vecchia villa ben arredata tra le colline della costa come il luogo da cui voltare le spalle all'assedio della città. Una donna del villaggio cucina e pulisce senza infastidirlo. E' una vita beatamente libera da emozioni. Ne ha avuti abbastanza di quel genere di turbamenti, piacevoli o meno. Ma dal suo posto di vedetta lo spettacolo di quello che non sarebbe mai potuto succedere, mai essere concesso, è una specie di richiamo. E' tra quelli che si precipitano sul fondo del mare scintillante. Sul passato. Detriti uguale tesoro. Sempre quello. Messo a nudo. Non si mischia. Non ha niente in comune con gli altri saccheggiatori. Ma come tutti loro corre da oggetto a oggetto. Rovesciando i cocci di porcellana dipinta. Le sculture create dalla distruzione, dall'abbandono e dalla ruggine. Le botti di vino dannata ormai sotto sale. Una motocicletta da corsa affondata. Una poltrona da dentista. Mentre il passo finisce su costole umane frantumate e metatarsi che non distingue. Ma a differenza degli altri, non prende niente. Niente. Fino a quando. Lì. Ornato da ciuffi di alghe marrone e arancio. Imprigionato tra conchiglie di madreperla e merlature di corallo rosso. C'è. L'oggetto. Uno specchio. È come se l'impossibile fosse vero. Sapeva che era lì dove si trovava, sotto il mare. Ecco perché non poteva dire cosa fosse. Nei poteva trovarlo prima. Soltanto un evento mai accaduto poteva svelarlo. Il più grande parossismo della nostra terra mai rilevato sulla scala Richter. Lo prende l'oggetto, lo specchio. La sabbia scivola giù. L'acqua, che era l'unico intenso lampo di luce rimasto, gli scorre via. Lo riprende con sé, finalmente. Ne prende possesso. Il suo nome ben noto nella capitale tra le cerchie dell'ex regime non è tra quelli dei sopravvissuti. Con lui, tra gli scheletri delle ultime vittime, insieme ai vecchi pirati e ai pescatori, ci sono quelli fatti cadere dagli aerei durante la dittatura, perché con la complicità del mare non venissero mai ritrovati. Chi li ha riconosciuti quel giorno, lì dove sono adesso? Nessun garofano o rosa galleggia, a cinque braccia sul fondo.